I campi sono i più ampi, i più vari e la possibilità di avere delle soluzioni che rispondano ai bisogni delle aziende sta accelerando sempre più questo processo. Ci sentiamo di dire che Team Open e con Digital Store sta dando il suo contributo in questo momentum di evoluzione che ci vede partecipi sia come foritori ma anche come interlocutori con tanti altri soggetti. Consid è uno dei partner con cui Team sta lavorando e in particolare è riuscita, grazie alla sua esperienza e focalizzazione e grazie anche alle tecnologie messe a disposizione, ad andare a far evolvere anche quello che può sembrare un mercato poco inclina alla digitalizzazione. La soluzione, questa è anetta, la soluzione che hanno presentato e hanno portato a bordo di Moven è una soluzione di digitalizzazione dei processi di certificazione del sistema di qualità ISO 9001. L'ISO 9001 racchiude un insieme di processi, procedure che certificano i processi produttivi e le relazioni all'interno delle aziende, quindi qualcosa che fino a qualche anno fa si chiudeva in processi, 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 in documentazione. La grande capacità, la grande intuizione di Consid con questo servizio è stato quello di semplificare al massimo i processi, portare sul web la gestione della documentazione per far diventare, per far passare quello che poteva sembrare un obbligo. ISO 9001 non è un obbligo di legge, però è il sistema di qualità a cui le aziende, grandi o piccole, devono in qualche modo adeguarsi se vogliono avere uno sbocco commerciale, per esempio nei mercati esteri, nella relazione con la pubblica amministrazione, nella fornitura verso i grandi clienti. Ecco, si è riusciti in questo modo a rendere questo sistema non soltanto più facile, più efficiente e quindi comunque a liberare risorse all'interno delle aziende, ma a far diventare questo processo addirittura un motore di efficienza dell'azienda stessa.